Dai, robetta veloce, stamattina andiamo a vedere. Ieri che cosa ha fatto? Abbiamo avuto l'impulso, abbiamo tracciato l'impulso con la nostra teoria quartile, la X vuol dire che abbiamo toccato un livello chiave della teoria quartile, abbiamo rimbalzato e stiamo toccando esattamente un nuovo livello della teoria. Ci siamo? Eccolo qui. Ora che cosa mi aspetto? Mi aspetto che dal momento che si è venuto a formare questo range, ok, lo possiamo identificare in questa maniera, io che cosa mi aspetto? Mi aspetto che innanzitutto andiamo a rendere questo range equilibrato, di conseguenza mi aspetto un qualcosa del genere, di conseguenza arriviamo quasi sulla zona del 50%, poi vediamo come rimbalza in questa zona, vediamo cosa farà in questa zona, se arriverà alla zona di Fair Value oppure scenderemo ancora. Io mi aspetto una situazione del genere, la farà? Boh, non lo so, perché io non faccio il mago, non so che dirvi, anche perché potrebbe tranquillamente proseguire il trend, vista la FOMO che si sta venendo a creare in queste situazioni. Detto questo, andiamo a vedere quelle quattro entry che vi dicevo, che non sono entry perché dobbiamo andarle ad analizzare nel migliore dei modi, dobbiamo capire cosa sta facendo, andiamo su Matic, abbiamo visto il movimento che si è venuto a formare, che cosa voglio aspettare? Voglio aspettare di ritornare su una zona molto importante per quanto mi riguarda, se ci arriveremo, non lo so se ci arriveremo, penso di sì, perché probabilmente questo che sta facendo ora potrebbe essere semplicemente una presa di liquidità, di conseguenza andremo a ribilanciare in questa zona, se dovessimo andare a ribilanciare questa zona potremmo andare a cercare un impulso long, perché? Perché ci sono tantissime, tantissime teorie su questa posizione, quindi abbiamo un average price dato da questo, dato da questa zona, eccola qui, abbiamo una teoria quartile 75% con un prezzo più tondo di 1, qui sicuramente la gente entrerà a manetta, ok? Andiamo a vedere l'indicatore, ci dà esattamente il livello chiave, guardate, meno 4,75 a 99 lo dà, quindi ci siamo assolutamente. Ragazzi, questi non sono consigli di trading, io non lo so poi se entrerò qui, perché magari il prezzo sfonda e la mia teoria si infrange, io faccio questa considerazione, vedo innanzitutto se questo può fare da sbilanciamento, ok? Se questa zona fungerà da sbilanciamento, se lo farà il prezzo scenderà, io in questo punto se avrò delle conferme entrerò, ok? Questo è un ottimo pattern. Andiamo a vedere quello che sta facendo su Atom, su Atom invece che cosa sta facendo? Sta facendo una sorta di liquidità sopra ai massimi, benissimo, ci piace, perché questo sicuramente ci sarà di aiuto. Scusate, non me l'ha presa la liquidità, eccola qui, la liquidità qui sopra, abbiamo toccato con l'impulso il 50%, cosa mi aspetto? Potremmo rompere tranquillamente e andare a prendere liquidità, oppure se l'impulso anche di Bitcoin dovesse riassorbire quello che sta facendo in questo momento, la mia zona di atterraggio dovrebbe essere innanzitutto la rottura di questa zona, quindi dei 10.27 e per andare ad aspettare una spike in questa zona, perché questa zona è un livello medio di prezzo, quindi qui abbiamo un livello medio di prezzo, io credo che possa andare a chiudere questo imbalance, questo è un imbalance, a chiudere questo livello in questa zona, con una presa di liquidità, non dico che ci debba arrivare per forza con il prezzo, ma magari ci arriva con una spike, quindi orecchie dritte anche qui. Qui invece che cosa abbiamo? Abbiamo su AVAX, che cosa abbiamo fatto? Teoria 75%, l'abbiamo leggermente sbilanciata a mandare fuori questi primi, mannaggia sbagliato, questi primi tentativi di long, qui abbiamo un pattern, abbiamo un quasimodo, eccolo qui, ci stiamo approcciando sulla zona del 50%, dove ci stiamo rimbalzando, eccola qui. Di conseguenza se avrò la conferma anche della rottura di questo livello, del livello del 25%, potrebbe innescarsi la mia strategia. Ok? Qual è? Non ve la dico, perché l'ho spiegata abbondantemente nei video per gli abbonati, durano 40 minuti, no raga, vi prego. Qui che cosa è successo invece? Questo è da monito per il video che uscirà per gli abbonati sabato, dove spiego esattamente, ve lo ripeto, esattamente questo movimento e perché lo fa. Me lo aspettavo questo movimento? Sì, assolutamente sì. Qui vi spiego anche come muovervi da questo punto a questo punto, ok? Però basta, perché già sto dando troppe informazioni, ma andatelo a vedere dopo aver visto il video di sabato, perché questa roba io l'ho fatta al contrario, ma la teoria dietro è questa. Allora, detto questo vi dico, siete arrivati fino a qui, non ci avete capito una sega, perché molti di voi sono arrivati fino a qui e minimo il 50% non hanno capito un cazzo, mi dispiace, ma noi stiamo andando avanti, non posso spiegare tutte le cose, tutte le volte a tutti, se questa modalità di operare in pochi minuti... Io non ho tempo. Io non ho tempo, lavoro, come cazzo faccio a stare dietro ai grafici? Certo che stai dietro ai grafici, lo sai perché ci metti due ore a stare dietro ai grafici? Perché non sai il cazzo che andare a vedere, quindi vai a traccheggiare a destra e a sinistra nella speranza che la tua strategia della madonna, ovvero entri, preghi e speri che ti vada bene, speri che ti vada bene. Il trading non è questo, ma se ti piace continuare a farlo, guarda gli altri di YouTube e non rompere il cazzo sul mio canale. Mamma mia quanto sei arrogante! Eh, fatti i cazzi tuoi e vai su un altro canale perché tanto io lo spiego così. Se ti sta bene e riesci a prendere qualche buono spunto, rimani, altrimenti non so che farti. Se siamo arrivati a 2600 persone in un mese praticamente, quasi 1000 iscritti, un motivo ci sarà. Tanti hanno riscontro in quello che dico, se non ce l'avete potete tranquillamente andare a tradare con le medie mobili da un'altra parte. Detto questo, io spero che come stanno facendo gli abbonati salgano di numero perché stiamo veramente raggiungendo un bel numero. Siamo veramente molto attaccati noi abbonati. Siamo molto sulla stessa linea, tutti quanti. L'ho visto anche ieri sulla live dove ho fatto una domanda e eravamo tutti allineati con la risposta, quindi sono molto contento. Se seguirai questo video sappi che dovrai seguire un processo. Qui non vendiamo nulla che non facciamo vedere tutti, tutti i giorni. Se vuoi vedere la mia operatività, se funziona, se non funziona, fallo tu il backtesting. Io non ti devo dimostrare niente, io lo devo dimostrare solo a me stesso se sono capace o meno. Vatti a guardare i video, abbonati, fai quello che vuoi. Come vi pare? Mamma mia, comunque sei arrogante, ma è una cosa incredibile. Eh vabbè, che devo fare così. Quindi, detto questo, vi ringrazio per chi è arrivato fino a qui. Se ci avete capito qualcosa vuol dire che il vostro percorso sta andando alla grande. Ci vediamo presto. Grazie. Grazie.